ma sul piano politico, squisitamente politico, siamo usciti dai confini della modernità classica in ragione del fatto che essenzialmente non è più il politico che si pone come egemonico rispetto all'economico e può disciplinarlo. Secondo la splendida figura hegeliana lo Stato è chiamato a essere etico nel senso di garantire la comunità e la sua tenuta ponendosi al di sopra del mercato e disciplinandone la bestia selvatica. Hegel usa questa splendida espressione, wildestiere in tedesco, la bestia selvatica del mercato. Oggi il rapporto è rovesciato, la bestia selvatica del mercato non solo si è liberata dai lacci e dai lacciuoli dello Stato ma essa stessa a dominarlo e a dirigerlo secondo i propri insaziabili appetiti, gli animal spirits del mercato. Questo emerge nitidamente, porterò un solo esempio ma voi potreste ricavarne molti altri dalla nostra ontologia del presente, quando nel 2011 la Banca Centrale Europea invia al governo italiano la lettera firmata Draghi e Juncker con le riforme da imporre è esattamente di questo che si sta parlando, il rovesciamento del rapporto fra politico ed economico, fra Stato e mercato ma lo stesso meccanismo europeo di stabilità detto MESS implica una sorta di rapina della sovranità politica degli stati nazionali, i quali già rapinati della sovranità economica e monetaria perdono ora la loro sovranità politica tramite un sistema usurocratico di indebitamento con aiuti che sono tali solo nominalmente ma in realtà sono aiuti assassini che servono a indebitare il paese che li riceve e inserirlo in un dispositivo di cattura in virtù del quale sarà schiavo tramite il debito del soggetto che presta loro il danaro. In questo modo dovranno accettare passivamente le riforme, gli aggiustamenti macroeconomici li chiama la neolingua liberista che la Banca Centrale Europea vorrà imporre. Appunto viene sequestrata la sovranità politica e viene dettata direttamente la linea politica dalla Banca Centrale Europea. Ecco da questo punto di vista possiamo dire che l'azione dei governi ha cessato da tempo di essere un'organizzazione democratica delle vite degli individui nella sfera pubblica e anche delle risorse. È diventata una pura regolamentazione tecnica, una sorta di demotecnia, ecco siamo transitati dalla democrazia alla demotecnia come ha scritto Marco della Luna e la politica stessa è diventata una tecnopolitica, una mera prassi efficiente di gestione economica affidata a economisti. Simbolico da questo punto di vista un'analisi dell'Italia post 1989 sarebbe interessante perché si è transitati dall'imprenditore Berlusconi, l'imprenditore al potere, l'Italia che diventava un'azienda con il suo bilancio, direttamente a Mario Monti, l'economista, il teologo bocconiano al governo che in qualche misura doveva trattare col metodo suddetto di tecnopolitica, il tecnico, la mera gestione di risorse secondo l'ottica di bilancio, una pura politica budgettistica potremmo dire, chiaramente direzionata in senso liberista. Sono quelli che vengono chiamati pudicamente governi tecnici che sempre governano per il mercato e non per la nazione, in nome di quella che non per caso è stata definita la governabilità, più volte evocata nel lessico specialistico e pubblico del presente. Governabilità significa né più né meno che governo ridotto a prassi tecnica, significa di fatto istituire un governo che permetta ai mercati di funzionare senza troppi impacci, questo vuol dire governabilità. Soprattutto significa far sì che il governo dei mercati governi per i mercati e che questi ultimi procedano senza troppi impacci sempre a distanza di sicurezza da ogni possibile mediazione democratica. Il linguaggio non è neutro, governi tecnici, aggiustamenti macroeconomici, taglia la spesa pubblica. Bisognerebbe riflettere seriamente su quanto già scriveva Pasolini negli anni 70, egli per primo aveva capito a mio giudizio perfettamente il fatto che il potere non era più clerico fascista ma era edonista e consumista, tecnico e liberista e che non soltanto non era più clerico fascista ma che doveva liberarsi da ogni elemento clerico fascista ormai d'impaccio rispetto alla pura governabilità tecnica consumistica libertaria contemporanea. Bene, diceva Pasolini, il linguaggio padronale è sostituito dal linguaggio tecnocratico, così scriveva Pasolini. In effetti questo è l'ordine del discorso che è imperversa. La governabilità invocata dalla neolingua liberista non è altro che il dominio della minoranza possidente sulla maggioranza pauperizzata e l'egemonia dei mercati apolidi sul popolo nazionale. La governabilità coincide con la governance ordo liberista, vale a dire con la riduzione dello Stato a garante del funzionamento indisturbato della aurealex del mercato. Potremmo partire da una definizione classica, quella che Tommaso d'Aquino prospetta nel De Regno, libro secondo paragrafo terzo, nel quale testo Tommaso d'Aquino dice che governare un ente significa condurlo verso il fine richiesto, come fa il nocchiero che conduce la nave nel porto sicuro. Bene, la governabilità dal canto suo potrebbe essere definita, variando la riflessione di Tommaso d'Aquino, come la capacità di governare in funzione del mercato e quindi fare in modo che la politica sia market-oriented e semplicemente tale da rispondere alle esigenze del mercato. Da questo punto di vista la spoliticizzazione si evince anche da questo, la politica che non è più il regno dei fini ma diventa il regno dei mezzi, i fini sono dettati dalla tecnocrazia, dalla spirale tecnocratica, come l'ha ben definita Habermas. È per questo che nel quadro del nuovo ordine mondiale turbo-capitalistico i governi tendono irresistibilmente a farsi sempre più tecnici e meno politici. Le maggioranze parlamentari debbono soltanto eleggere i consigli di amministrazione del Paese ridotto ad azienda. L'ordine dell'Unione Europea è ancora una volta paradigmatico, se considerate il fatto che il paradigma della cessione di sovranità dovrebbe meglio, più propriamente e anche più disinvoltamente, essere definito come un paradigma di cessione della democrazia, o se preferite come un paradigma che neutralizza la democrazia nell'atto stesso con cui neutralizza la sovranità nazionale. Non sono un costituzionalista, tuttavia il primo articolo della nostra Costituzione mette squisitamente a tema il fatto che l'Italia è una democrazia, nella misura in cui definisce la democrazia come sovranità che appartiene al popolo, come sovranità popolare. Ma perché vi sia la sovranità popolare nello Stato, questo è il concetto basico di democrazia, occorre che vi sia la sovranità dello Stato. Ecco perché la grande ingegneria europeistica, che viene presentata come tesa all'integrazione al benessere, quando in realtà inconfessabilmente è tesa all'integrazione al benessere delle classi dominanti, con annesso massacro di classe dei lavoratori e dei ceti medi, l'Unione Europea ha essenzialmente prodotto una sorta di distruzione delle sovranità nazionali per colpire contestualmente le democrazie nazionali. Potremmo dire che l'Unione Europea ha dissolto, per ora ha indebolito e quotidianamente va sempre più indebolendo, muovendosi sempre più verso la dissoluzione delle sovranità nazionali, perché l'obiettivo è dissolvere la sovranità dello Stato per poter così abbattere la sovranità popolare nello Stato. In sostanza si attua con la post-nazionalizzazione in atto, non solo la perdita della politica e il trionfo dell'economia. Noto per inciso che la politica, a differenza dell'economia che si muove negli spazi cosmopolitizzati, la politica ha sempre bisogno di territori e luoghi definiti, di confini e spazi nei quali si orienti la decisione e venga presa. Per questo Aristotele, che difficilmente potrebbe essere definito un pericoloso xenofobo identitarista, nella politica insiste che il principio basico perché vi siano la polis e la politica è l'oros. Oros è il confine, inteso, attenzione, non come barriera, è una patologia del nostro tempo, quello di distruggere il concetto abbinandolo immancabilmente alla sua deviazione patologica. Ecco che la nazione viene dissolta come nazionalismo, l'identità come xenofobia, la famiglia come omofobia e il confine come barriera che chiude. In realtà il confine va ben distinto dall'idea della barriera che chiude. Il tedesco di Kant lo distingueva bene, Kant criticava l'idea di schranche, di barriera che chiude, ma valorizzava l'idea di confine, di grenze, di limite. Il confine non è la barriera che chiude, è una soglia che traccia una differenza tra due parti, che regolamenta il passaggio dall'una all'altra parte, impedendo che vi sia la sopraffazione dell'una sull'altra parte, evitando che la differenza vada perduta e si produca una indistinzione tra i due distinti. Ecco che il confine ha un ruolo fondamentale a patto che naturalmente non venga frainteso con la barriera e così anche per gli altri concetti a cui ho fatto riferimento. La democrazia in sintesi, per esistere necessita sempre di spazi e luoghi, di territori. L'idea coltivata dalle anime belle del globalismo, di una global democracy, è puramente chimerica. Non potrà mai esistere una global democracy, può esistere solo una global economy che non avrà nulla a che vedere con la democracy. La democrazia invece è sempre territoriale. Per questo possiamo dire che il superamento della sovranità nazionale oggi implica sempre, come già dicevo, perdite, emorragie, vorrei dire, di democrazia. Non esiste ad oggi un solo caso riscontrabile nell'Europa contemporanea in cui la sovranazionalizzazione abbia comportato una crescita di democrazia. Ogni sovranazionalizzazione ha comportato ineludibilmente sempre un abbassamento del grado di democrazia. Ecco perché, potremmo dire ancora, la sovranazionalizzazione coincide sempre con un transito post-democratico, anzi con quel transito post-democratico che è la cifra del nostro tempo, che appunto mira sempre a superare lo Stato sovrano nazionale identificandolo con le peggiori sciagure del Novecento e scordandosi sempre fatalmente di rammentare il fatto che lo Stato sovrano nazionale è stato anche il luogo in cui le classi lavoratrici hanno ottenuto le loro conquiste salariali, è stato il luogo del keynesismo, del new deal e del welfareismo, è stato il luogo delle democrazie parlamentari. È evidente l'obiettivo della global class e del rapporto di forza capitalistico, superare gli Stati sovrani nazionali per abbattere l'ultima cittadella di democrazia, diritti sociali e conquiste dei poli dominati. Dopo il 1989 che viene in questi giorni celebrato si è transitati da una situazione di economia di mercato a una nuova situazione di società di mercato in cui tutto indistintamente diventa parametro mercatistico, è l'aggressione privatistica al mondo della vita, l'aziendalizzazione della Lebenswelt e da questo punto di vista i processi che stiamo qui tratteggiando rientrano appieno in questa dinamica. Si dice di voler superare lo Stato sovrano nazionale per evitare i conflitti, proprio quando per ironia della sorte dopo il 1989 i conflitti sono tornati a dilagare contro la lieta novella che dice che l'Unione Europea protegge dai conflitti, io ricordo nel 99 quando dalle basi italiane partivano assolutamente aerei che andavano a bombardare Belgrado, che appunto salvo errore fa parte appieno di quella civiltà che è quella europea, ricordo ancora appunto tutti i conflitti che caratterizzano sia pure in ambito non direttamente bellico ma di una belligeranza economica, i rapporti ad esempio fra Grecia e Germania, cioè l'Europa unita oggi è un grande campo di battaglia fra stati debitori e stati creditori, credo che il livello di tensione nazionalistica sia pure mediata dall'economia non abbia mai raggiunto picchi di intensità tali dal 45 ad oggi essenzialmente. Ecco da questo punto di vista stiamo assistendo in maniera evidente a questo processo di spoliticizzazione insieme di dedemocratizzazione dello Stato nazionale. Ecco questa...